meglio con o senza ovviamente sto parlando dell'antivibrazione di quel gommino colorato che si mette tra le corde della racchetta io sono marco del sito giocare a tennis punto it e anche oggi lunedì 27 settembre ti do il benvenuto nel nostro centro ad abano terme in provincia di padova questo gommino serve per assorbire il suono che la palla fa quando colpisce le corde ci sono giocatori che amano sentire questo suono ad esempio a me piace altri che invece non lo sopportano e allora mettono questo gommino gommino che serve per il rumore non per assorbire le vibrazioni che si scaricano sul braccio quindi purtroppo se uno ha le picondilitte il gommino serve a gran poco qui da noi puoi trovarne di vari tipi vari colori smile con loghi di racchette oppure questi della hydrogen i teschi colorati qui sotto ti metto tutti i contatti se vuoi venirci a trovare